Ciao a tutti, bentrovati sul mio canale Feri ASMR Io sono Federica e quello che state per guardare è un nuovo video ASMR rilassante Oggi farò un altro Get Ready With Me, quindi un video chiacchiaccio in cui mi preparo insieme a voi E' mattina, sono in quarantena, anche se non sono malata però devo restare a casa come da disposizione del governo E niente, sicuramente dovrò pulire casa e fare altri servizi però non mi va di non prepararmi e lasciarmi andare così alla, non lo so, all'inettitudine E quindi niente, mi preparo Poi mi raccomando indossate le cuffie e mettetevi comodi E lasciate un mi piace e naturalmente iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti attivando anche la campanella E noi adesso iniziamo Bene bene Metterò questo cerchiettino E iniziamo con un po' di skin care Sto utilizzando un campioncino di crema di La Vera In realtà è una crema per la notte però l'ho aperto un paio di giorni fa quindi voglio terminarlo Si chiama Queen Hydro Complex Quindi andiamo ad applicarne una piccola quantità sul viso In questi giorni di quarantena forzata Sto realizzando dei bravi vlog Per documentare un po' la mia esperienza e per passare il tempo In vostra compagnia Qui ho una ferita Perché mi sembra che sia stato Jesse una di queste notti Con la sua zampina a volermi chiamare Facendo così mi ha graffiata Vabbè, nulla di grave comunque Mettiamo anche qualche goggiolino di siero Questo di Laneige Siero illuminante Quando terminerò sarò molto triste Perché fa un suono bellissimo Non trovate anche voi Nel frattempo Sono alla ricerca Di una nuova casa Perché come vi avevo anticipato in qualche video Mi dovrò spostare a breve Da qui Sono cambiate un bel po' di cose nella mia vita E quindi Cambierà anche la casa Devo ammettere che mi dispiace un po' Un bel po' Però Non posso farci che anche qui Allora Ho un correttore E un po' se lo trovo Intanto Mi legherò i capelli Così tanto per completare L'opera Eccolo qui Eccolo qui Il correttore Instant anti-age Cancella da Di Lo sai Maybelline mi sembra Maybelline si E la colorazione è 115 Warm light Credo sia la più chiara Se non mi spalle Mettiamola innanzitutto un pochino su cui Sulla ferita Ok Poi Un po' Sulla zona del contorno occhi Senza esagerare Con le quantità Perché ho notato che È piuttosto Pastuoso Questo correttore Copre molto bene Le discomie Specialmente Le occhiaie Perché quando ossida Il colore Risulta Lievemente Aranciato Non troppo Però È Abbastanza Pastuoso E quindi Non voglio esagerare Di solito infatti Preferisco Utilizzare Questo E Mettere direttamente Il Il fondo Di Beach Si Che adesso vi faccio Vedere Con quello che avete già visto Sicuramente Nell'altro Che è Trady Whitney L'ultimo che Ho pubblicato Qui sul canale Fatemi Fatemi sapere Se questa idea Di vlog Della quarantena Vi piace Io Penso che sia Una buona Iniziativa Per Inganare un po' Il tempo E Tenerci In compagnia Tra l'altro Questo video Sarà Probabilmente Lo avrete Capito In qualità Lo fai Soprattutto a casa Del microfonino Non voglio Utilizzare Il Il Rode Questa volta Adesso Il mio Microfono A cravatta Che comunque Mi piace Molto Non so A voi Se risulti Gratevole Il suono Fatemelo sapere Il fatto è che È mattina Ancora E quindi Ci sono un bel po' Di rumori Dalla strada Che spero Non vi tieno Troppo fastidio Taglierò Quanto possibile Non so se Voi Stiate Avendo Con meno Dei Disaggi Dovuti Alla Quarantena Forzata Appunto Io Purtroppo Ho avuto Qualche Problema Puro Cratico Diciamo Perché Avrei dovuto Dere Di un Socialista Svolgere Le pratiche Che Ora Dovrò Svolgere Online Ma Senza Il suo Aiuto Quindi Vedremo Un po' Allora Mettiamo Un po' Di cipria Sempre Sempre Questa Naturale Di Burbio Tra l'altro Se non mi seguite Su Instagram Andatemi a seguire Perché In questi giorni Faccio anche Delle Dirette Li Che sono Sicuramente Più Smart Più Veloci Più Facili Rispetto Alli Diretti Su Youtube Ci sono Diverse Persone Che Conosco Che Si trovano Nelle regioni Del nord Ma Non sono Originarie Di quelle zone E in pratica Sono state Blocate Lì Non so Per quanto Tempo Durerà Tutto Questo Ah Intanto Obbligo Un po' Di burro Di cacao Questo È Della Innisfree Al miele Io Solito In uno Dei prossimi Giorni Voglio Rimettere Lo smalto È Quasi Finito Più O Meno La prima Volta Era Veramente Veramente Buono Questa Volta Come Blush Utilizzo Sempre Questo Di Peripera Ma Nella Colorazione Rosso Credo Sia Più O Meno Rosso La Marca Appunto È Tinta Multiuso In realtà Quindi Può Essere Utilizzata Sia Come Blush Sia Come Tinta Dalle Labbra Va Dosata Molto Molto Bene E La Quantità Da applicare È davvero Piccolissima L'effetto Però Mi piace Stanno Passando Passando Negli elicotteri Certo che Registrare Un video ASMR In pieno Giorno È Abbastanza Complicato Allora Poi Mettiamo Anche Una Piccolissima Quantità Di Illuminante Non Ha neanche Il pennello Per applicarlo Quindi Lo farò Con il Dito Questo Quindi Mi scordo Sempre Primark Guardate Che Bello L'illuminante Io lo Applico Solo Nella Parte Alta Dello Zigomo E Qui Non so se si Percebirà L'effetto Poi Mettiamo Un po' Di matita Sugli occhi Ultimamente Sono Fissa Per questo Colore Spooky Brown Anche Detto Marrone Fungo E È il colore Dei miei capelli Al naturale Un po' Più chiaro Forse In questo caso Un marroncino Freddo Comunque Che sto Tentando In tutti i modi Di Riottenere Ma Purtroppo Senza Successo Non ho Molte Novitate Raccontarvi Tranne Quelle Che Insomma Vedete Poi Nei Vlog Proprio Perché Sono Costretta A casa E Posso Muovermi Davvero Davvero Poco Quindi Tutto Ciò Che c'è Di nuovo Qualcosa Che accade Qui dentro Ma Per ora Siamo Abbastanza tranquilli Sono in fase Di sviluppo Di un Progetto Che Non vi posso Spoilerare Ancora Ecco Qui servirebbe Il mascara Per sopracciglia Ma Non ce l'ho Molto intelligentemente Non l'ho presa E Vediamo 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 un po' Uso Questa Mascara Lash Sensational Di Maybelline Sempre Che ho acquistato Su Amazon Un giorno in cui Non avevo voglia Di uscire Di casa Devo dire Che Sulla Mie ciglia È rimasto Ancora Un po' L'effetto Della Laminazione Che ho fatto Il mese scorso Quindi sono già Abbastanza Incurbate Anche Rastroccate Ma Con il mascara Ovviamente La situazione Migliora di molto Io ho le ciglia Molto lunghe Ma Come saprete O come avrete Visto Da qualche altro video Sono molto chiare Al naturale E sono anche Abbastanza Sottili E Dritte Quindi È necessario Per avere Un bel effetto In cui Farlo un pochino Scurirle Sicuramente L'idea Di truccarsi Anche Dovendo stare In casa Fa capire Molto bene Il senso Che Si può dare Al make up Che non necessariamente Credo Sia Uno strumento Per apparire Più Belli O Per piacere Agli altri Nel mio caso Soprattutto Adesso È un'occasione Per Farmi una coccola Diciamo Prendermi un po' A cura Di me Allora Togliamo il cerchietto Poi Passiamo Allo Rossetto Anche se Mi piace molto L'effetto Delle labbra lucide Che ho ottenuto Grazie al Balsamo labbra E ovviamente Una volta che Ho indossato il cerchietto I capelli sono Completamente Da Sistemare E forse Così non ci riuscirò Molto bene Vedete Sono tutti sparati Dritti Così Mi sa che dovrò Utilizzare la casta Bene Allora Temperiamo questa matita Di MAC Che è la Whirl Ed è un nude Semplicissimo Ok E adesso Andiamo a contornare Le labbra Ecco I vicini Stanno Attraversando Il momento Karaoke Poi mettiamo Un rossetto Che non è per niente Album bromatico Per me Però Mi piace Un rossetto Di essence Che si chiama Verde Matte Lipstick Numero 01 Non ho idea Di che cosa Vediate Perché Non posso Controllare Sto registrando Con la fotocamera Retro Frontale No La non frontale Del telefono Insomma Non quella selfie Sì Non so come si chiama E fatelo sapere Ok Non l'ho applicata proprio benissimo Devo dire Avrei potuto fare di merito Comunque Completiamolo Però Con Il profumo Che sto indossando In Quest'ultimo periodo Che è di H&M Che si chiama Freewheeling È un profumo Che contiene Tra le note La mela La vaniglia Ma Secondo me Sa di amareno Ed è veramente Buonissimo Molto fresco Fruttato E E anche dolce Sciogliamo le trecce ai cavalli Ecco qui Sì I capelli sono Da sistemare Spero Che questo video Comunque Vi sia Piaciuto Io Vi do appuntamento Al prossimo Se vi va Nel frattempo Vi auguro Il cuore relax E Potete Cliccare Sulle schede Sinoni Per guardare Qualche altro Il mio video Se volete Che vi tenga Ancora compagnia Per il momento Vi mando A piacere I cattori Ciao Adesso Tocca a te Hai già lasciato Il mi piace Iscriviti E clicca sulla campanella Per non perderci di vista Oppure abbonati Se vuoi sostenermi Ed entrare a far parte Della Feri Crew Ah E se vuoi continuare A rilassarti Clicca su uno Di questi altri video Che ti lascio Qui intorno Penso Possano piacerti Buonanotte E se vuoi continuare E se vuoi continuare A rilassarti E se vuoi continuare E se vuoi continuare A rilassarti E se vuoi continuare Grazie a tutti